Salve amici, fratelli della congrega, non mi sono sbarbato da due giorni, mi sono pettinato, sono in viso sciupato, sono dimagrito, sono sempre più anchilosato, chiuso all'interno dei meandri, dei miei dilemmi esistenziali e non sto leggendo da nessuna parte. Io sono un grande fan, affissionato della serie tv, disponibile sulla piattaforma più famosa al mondo, cioè Netflix, serie televisiva sui generis di Stranger Things, strane cose che sono cadute alla mia vita, io caduto, decaduto, io stempiato, io sproveduto, inesperto, già mai affidatomi alla divina provvidenza in quanto credo di essere ateo e ripudio, ripugno soventemente alla normalità e se vorrai richiamarmi in servizio civile, in quanto mi dichiarerai disertore, ti sfererò un pugno. Sono un uomo pugnace che combatte a mani nude e non usa i pugnali. Sì, stamattina, per puro caso, perché vi racconto un aneddoto superfluo che non c'entra nulla, salto di palo, in frasca, i peli, i capelli, il bulbo. E guardami, sì, oculato, devi vagliare e in maniera oculata non obiettare, devi essere obiettivo. Ora dicevo, non trovo più il mio contatto Whatsapp, gli mando un messaggio su Messenger, come stai? Bene? Ce l'avamo incontrati, non vi rivelerò il nome, il progetto Top Secret. Per questo racconto deve rimanere nell'anonimato questa persona, un ragazzo. Sono rimasto scioccato, incredulo, come le persone di Hawkins, nel secondo episodio di questa quarta stagione, dinanzi a una notizia inaspettata, ma non tragica, che mi ha rallegrato. Io, spesso poco spensierato. Stefano, che ti dici se fra un po', periodo esatto, non me l'ha indicato, ci svaghiamo, anzi lui deve lavorare, e con una combriccola di persone, collaboratore, partiamo e voliamo alla volta di Los Angeles. Non sto scherzando. Faccio una pensata, un pensierino. I pensierini della buonanotte, che non sono sicuramente scritti da me, che scrissi questo libro dopo la morte, questa copertina ispirata ai titoli di testa, miei testoni e testardi, malati di testardaggine e di ottosità, aberrante, raccapricciante. Ecco, tru detective. Quarta stagione di Stranger Things, no, tru detective, vi sarà Jodie Foster, la buttiamo su una donna lesbica, che sarà affiancata dalla sua partner nella vita reale. Io non voglio, ecco, esservi regale, ho anche scritto fantasmi principeschi, ma non ve lo regalo, ne regalerò. Forse qualcuno regalai, non so. Ora, uomini, privi d'ogni principio, non siete dei principi e non credete neanche ai principi. Dicevo, da principio fu Dio, cioè me, medesimo, di persona, perché io non posso credere a un'entità superiore essendogli io, superiormente molto down. Allora, più su, giù, e già sono ancora qua, Pasqua Rosse e Imola, e mi sto perdendo, sì, non me l'ha persi la prima stagione, vedi questo trailer, che è questa roba, sincretismo culturale, Spielberg, i Goonies, e tutta una serie di riferimenti, di omaggi, furbizia, scaltrezza, dei fratelli sono gemelli. Doffer, io Paperino, io forse da Fitak, io è inaffidabile. Vi dovete fidare di ciò che vi dico. Ora, trovate nella home page, oserei dire, del mio canale YouTube, quest'intervista un po' imbarazzante di anni fa, Noir Nightmare, citai Freddy Krueger, con la Y, come, e poi Y, la parola, si scrive senza la Y, I-P-S-I-L-O-N, ecco. Freddy Krueger, da non confondere con Diane Krueger, perché se volessimo, vogliamo fare lo spelling, K-R-U italianizzato, cioè K-R-U-G-I-R, ecco, americanizzato, e contro K-R-U-E-G-R, Freddy con la Y, da non confondere con Freddy Mercury, F-R-I-D-A-I, la Y, è la fine del cognome. Ok, uomini raffreddati da questo falotico, rinnovato, ma io sono sempre stato così, soltanto che scomparvi come quel bambino nella prima stagione. Ho ragione. Ora, dicevo, qui veriamo verso l'horror, questa Chrissy, questa cheerleader, che assomiglia alle attrici, però, della Hollywood a luci rosse, no, e questo Edie Monson, cioè Charles Manson, Marilyn Manson, Ted Bundy, questo ragazzo bandito, bocciato, in caponitosi, a inseguire forse sogni utopici, utopistici, che dir si voglia, e affiliato comunque scolasticamente al college l'ultimo anno, ma già sganciatosi, sganciatosi. C'è stata una ripetizione, devi prendere ripetizioni, sei ritardato, forse eri già troppo emancipato, troppo in là, per stare con i tuoi coetanei, i tuoi genitori, che comunque, la madre di chi è, di Nancy, Nancy Bridle. Quella lì, poi, stette con quel ragazzo che è stato ammazzato, ma lo sceriffo, interpretato da David Harbour, fatto un tipo un po' maniaco, come Freddy, che fu bruciato, si si, dalla cattiva coscienza della borghesia, e questa è la storia del film Nightmare, si incontra quel cristiano, non so se sia cristiano e omosessuale, Flores, quello che mi intervista e fa, lo sta dicendo, le domande erano non propriamente eccezionali, eccezionali, eh? Pensi che mi spaventa anche Pretty Woman, spero che i sogni sono i bambini, i bambini e i mammoni, ma impapocchiai delle risposte sull'anemotivo, ma di qualcosa, comunque, di nefasto, successo, mi... E molta gente si riempie la bocca, il TFO, trattamento sanitario obligatorio, il manicomio, le cliniche psichiatriche, si si si, io sono diventato psichiatra di me stesso, grazie a viaggi introspettivi, a salti nel buio, non alla giudante domani devo tornare al dentista e pulirmi i denti e curarmi da un'altra carie, i miei cariatidi che emettete giudizi troppo affrettati e affettate le persone. Viene citato in questo secondo episodio anche Michael Myers di Halloween, il babau, ce l'ha con le babysitter, poi vanno di nuovo questi porno interaziali, di assistenti, babies, e io, ecco, fra l'altro sto andando avanti col commissario Falò, comprate questo libro, che è un'immersione nelle tenebre, una visione esistenzialista, la Travis Bicol, Bobby De Niro, è un'opera coraggiosa di psicanalisi, introspezione, un allucinato falotico lanciatosi, scandagliare, lanciatosi, qui c'è l'anacoluto, scandagliare se stesso, incupendosi, tuffandosi nella cupezza, nella tetraggine di una vita riscoperta, rinsalita, ancora insalita, o sì, sì, un uomo che arranca, che s'arrangia, che s'arrabatta, che perde saliva, sì, le infiammazioni gengivali, il tartaro, il tartaro, i barbari, gli atti vandalici. Il commissario Falò, e allora ho citato di nuovo Cassidy Klein, eccitante quella, 29 maggio, Vasco Rossi e Imola, lei ha compiuto 31 primavere, ma il 21, lei anni 31, il 21 sarà estate, donna che induce a qualcosa di raggiante, di piccante, di arrapante, e Mark Wahlberg, Boogie Nights, Paul Thomas Anderson, il romanticismo, ubriaco d'amore, mi è stata chiesta anche questa recensione, e lì, dopo essere stato il testimonio ufficiale dei boxer, mutandine, gli slip, Calvin Klein, tu sarai calvo, io me la cavo, io speriamo che me la cavo, vogliamo parlare di quell'insegnante che sfruttò le dabbenaggi, l'ingenuità giuste per fare soldi, per arricchirsi e per ricevere tanti soldini, mentre questa qua fa tante bocchì, non è laureata la boccone, anche perché negli Stati Uniti non c'è, e allora Mark Wahl, Boogie Nights, la febbre del sabato sera, quel poster, Tony Manero, Tony Montana, e chi monta questa qua, glielo mette nell'ano, dicevo, e poi è stato anche Boxer, Pugile in The Fighter, Mark Wahlberg, Dicchi, 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 usavo un fezzic, ci sono donne che di notte, come Evanotti, conoscete, hanno tiz, tiz, tette fasulle, silicone, uomini oramai plastificati, uomini che dite a me, togliti la maschera, te cofior maschera, non è che i mostri siete di voi, che agite sempre di retropensiero senza conoscere i fatti, gli antefatti e soprattutto i falli che commettete e che volevate tagliare, uè, Joe Cocker, cioè un cock per la maggiorata, in maniera, diciamo, l'accrescitivo, Cocker, Cocker, ex rocker, you can leave you, eto, nove settimane e mezzo, Mickey Rourke, Mickey Mouse, Topolin, Topolin, viva Topoli, full metal jacket, Kubrick, I was shut, devi rimanere desto, se no ti arresto, se no ti incrimino, ti colpevolizzo, uè, oh, allora, Stranger Things, ci sarà la mia recensione, però non sarà completa perché gli episodi finali, due, ma non c'è due senza tre, no, ci sarà quella quinta stagione, saranno trasmessi, visionabili soltanto al primo luglio, uè, e allora la maledizione di Vecna, uè, oh, l'uomo nero, uomo nero, allora siete razzisti, non va bene, non va bene il razzismo, il fascismo, il comunismo, il capitalismo, dobbiamo fare soldi perché con i soldi avremo, se è successo, se no se è un fesso, sfigato il bullismo, Kerry, lo sguardo di Satana, sì sì, i poteri psicotici, la metempsicosi, l'ipnosi, uè, anche scritto speculare ipnosi, sono un uomo ipnotico, falotico, magnetico, sono un freak, sono Chris Walken della zona morte, Cronenberg, Crimes of the Future, leggo delle critiche con queste frasi apodittiche banalissime, cinema sepolchè, le, 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 are, are, are cerebrali, qui ci sono dei danni neuronali, cinema chirurgico, sì perché Gerimeros, inseparabili, lì c'è il ginecologo, sai, da reparto pediatrico, geriatrico, conoscevo uno alle scuole medie, lo prendono tutti per il culo, se no a me era un bravo ragazzo, geraci, geraci patatine bibite, gelati, voi rimasti così, freddati, uomini, agghiaccianti, siete stati raggelati e voi stessi siete raggelanti, disturbate, disturbanti, sì io sono Eddie Manson, sì, non sono cattivo, e che mi disegnano così, Jessica Rabbit, citata, anche quella eccitante, in Bologna Polar, il commissario Falò, un uomo ficcante, un uomo imprevedibile, un uomo, per appunto un falò, nella notte, dei vostri reumatismi mentali, voi soffrite di artrite esistenziale, voi non esistete, voi guardate solo film, serie tv, Cronenberg, ve ne proiettate, vi incarnate il loro, poi vi incazzate, Videotrom, che casino! il commissario Falò, i disabili, tu sei disabile, qua, qua, dappertutto, senza cuore, senza anima, sei una merda, sei una merda, non vale nulla, e Steve mi ricorda quello che telefonò, sì, contattiamo con la famiglia del centro di salute mentale, adesso lavora alla ceramica, alla ceramica, Vincenzo Cerami, la vita è bella, Roberto Benilli, il mostro, ma chi è il mostro? no, è quell'altro, quello che fa il professor, il maestrino, ma quello ha tanti scheletri nell'armato, Stranger Things, guardate questa serie, leggete questi libri, po, 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 il linguaggio si depopera, poveri ignorantoni, a me, a me faccio, a me, a me Mario Brega, una, un cazzo frega, no, fregava, è morto, a zocco, questi ex liceali, acculturati, imparavano le pappardelle a memoria, e poi facevano i belli bulli, con le poop, con le pop, ma andate tutti a fanculo, va?